Damm esce e spara, mette a posto i piedi, va da Forrai, tornata uomo Tortona, Sonders, Forrai da tre punti, Toto Forrai, il capitano, pressione sul quasi omonimo Senders, Mascolo appena entrato e fresco di convocazione nazionale, Bruno Mascolo. Paccadori prova nuovamente all'andare da Reynolds che prova a inventare, trova al canestro. Wright bene dentro da Damm, è tutto solo, deve andare solo in verticale. Cambio difensivo di Trento che non consente a Damm di uscire libero, ma Damm si butta dentro, benissimo! E chiude con la mano opposta, Tante è sempre molto presente, Luca Severino, 8 secondi per andare al tiro. Mascolo, penetrazione, mano destra, appoggia al vetro, Bruno Mascolo. Placcadori aspetta Forrai che poi prova a buttarsi dentro, un canestro incredibile, senza equilibrio, Toto Forrai, rimbalzo di Reynolds, va da Caroline, cade Sanders, poi Caroline resta di piena palla, appoggia al vetro per lui questa sera. Figlioi, prova a buttarsi dentro con la mano sinistra, va dentro, trova Sanders che alza per Jalen Cannon, bellissimo movimento, aspetta il blocco, e si butta dentro con la mano destra, step back, prende un fallo, poi appoggia la tabella. Ma arriva un po' corto e la sbaglia, e allora ci pensa Sanders, da tre punti! Jamar Sanders, la tripla del Max, vale il più 11, Tortona. Si va con l'11, 7, 30, col 33 e 3, Tortona, coltropiede di Dam, sbaglia, ma arriva Tyler Kane. Ok, riceve Kane, poi Figlioi va dentro, passa in mezzo alle maglie della difesa, serve Dam, che sale e inchioda con la schiacciata. Nazionale azzurra, intanto Williams, che si gira in qualche modo e trova il canestro da sotto con la sua mano preferita. Speramente la partita è finita abbondantemente, e Ariel Figlioi ci mette la ciliegina. Grazie a tutti!